Il caso in questione è ormai in via di guarigione in pericolo per la popolazione crotonese. Erano presenti il dottore che ha seguito personalmente il caso del 24enne turista brasiliano affetto da virus H1N1, Nicola Serrao, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione Domenico Tedesco, responsabili del Presidio ospedaliero Angelo Carnea, del Dipartimento di Malattie Infettive Alessandra Bisbano, Angela Caligiuri, direttore sanitario del distretto di Messoraca e il direttore sanitario dell'ASP di Crotone Nazareno Manoni, che ha illustrato la tipologia di influenza e le sue principali caratteristiche. Abbiamo voluto chiarire, come sta già dicendo anche il Ministero, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutta una serie di organi internazionali, che questa è un'influenza molto simile a quella che tutti gli anni noi conosciamo. Addirittura presenta caratteristiche cliniche di minore gravità.